No, è volato uno! No, mannaggia, che è caduto Quan! Sì, perché c'è Predator con me, quindi è caduto Quan! Adesso ti grabbo, perché mamma mi vuole bene emoticon sorridente! No! Ragazzi, un saluto alla vostra start idea e benvenuti su Folk Eyes! Beccateve sta intro tranquilla, perché sono le 4 di notte e non posso urlare! Ho avuto problemi con YouTube e di conseguenza per altre cose, per altri problemi miei, non posso fare live, ovvero oggi, domenica! Lunedì riprenderemo con le live! Non sapevo se caricare questo video, è un estratto della live insieme a tutti gli altri iscritti! Quindi se la cosa vi può piacere potrei farne anche qualcuno più spesso, ok? Supportate con un bel pollicione in su, vi lascio alla clip della live! Siamo con Predator! Lilittina e Quan! Vediamo che succede! Abbiamo già selezionato qua la squadra, perfetto, possiamo andare! Corsa spaziale! Dimmi che riesco a fare la corsa spaziale! Predator! Visto che tu sei tutto pro players, carriaccia a tutti! Cioè devi carriaccia! Fammi saltare! Ti prego non togliete... Non togliete qua i tasselli! Grazie tezzori! Aspetta, ce n'era uno per me lì! Dai veloce veloce! Facciamo così! No! Non ci credo, guarda stavo facendo una... Lilith! Stavo facendo una roba... Sì Lilith, giriamo! Bravissima! Aspetta, andiamo di qua! Che c'è Lilith? Aspetta, di qua! Ah no, non è Lilith, è Quan! Ma... Lilith pensavo fossi tu, invece è Quan! Quel coso brutto di Quan! Ma che stava a fare quello? Ma che problemi aveva? Fammi andare da qui! Ma che problemi aveva? Ho visto un personaggio che faceva la sali e scendi! Gira, gira, gironi! Boh! Dai! Fammi andare a questa parte! Fammi saltare! Fammi... E dai eh! Vai! Ora non mi fare il bug! E mi fai volare perché veramente mi dissocio altamente! Non farmi bugare il personaggio! Ora basta mettersi di qua! Piano piano! Dai! Oh grazie! 44 punti! Buoni! Penso che sia entrato adesso Predator Drop dopo di me! Mi sa che poi c'è Quannino che manca! Sì! Vai Quann! Dai che ce la fai Quann! Piano piano! Quann! Quann non saltare qua! Fallo piano piano! Dai! Troppo! Eh ok! Va bene che lo distruggi su Stumble! Però qua dice che gli fai il caffè della peppina! Il caffè della peppina non si beve la mattina! Cioè io riesco a tryhardare di più qua che su Stumble Guys! Non riesco su Stumble! Non riesco ancora a fare i trick dopo due anni! Faccio proprio cagare! Cioè mentre qui io mi riesce molto ma molto più semplice qua! Evitare di andarmi a bodybloccare con loro che ci sbatto poi contro e fa blu 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 blu! Aspetta via di qua! Dai Lilittina che questo è semplice da fare! Lilith fidati di me! Aspetta andiamo di qua! Dai 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 dai! L'importante è che mi vada a classificare tra i primi insieme a Predator così facciamo un botto di punti! E andare a... Aiuto! No! Questo è dissocivole! Ok! Aspetta che ora di qua cade! Ogni volta di qua... No! Ma perché sto gioco è così cattivo? Ogni tanto ci piglia male! Dai! Andiamo di là! Non perdiamo troppo tempo se no ci fa volare! Allora 6 punti puzzolenti ci abbiamo preso! Perfetto! 6 punti puzzolenti! No! 26 punti ci abbiamo preso! Ci abbiamo fatto 69 punti! Nice! Eh! In due! Vai Lilith! Dai! Dai Lilittina! Bravissima! Anche Lilith sta entrando! Chi è che manca ancora? Quan non... Mannaggia! Quan se tu metti il grav! Quan! E vi fai fare più punti agli altri! Quan! Quel tipo è incredibile! Andiamo di qua! Niente! Questo non è giusto! Questo invece sì! Allora andiamo di qua! Aspetta aiuto! Annaggia a me! Aiuto! Fammi andare da questa parte! No! Era questa la strada ragazzi! Se no ci piglia in giro! Sì ma qual è questa dritta? Qui! Ma manco a pagarli! Aspetta! Fammi saltare qua nel vuoto! Fammi saltare! Uh! È giusta quella! Aspetta! Attenti ai meteoriti! Che quelli rompono le scatole! Buono! L'elite anche io sono arrivato! Così ci facciamo un vuoto di punti! Allora! Qua vengono pure eliminati gli altri! Eh! Purtroppo però si deve collaborare con gli altri! E collaborare con gli altri non è mai conveniente! Aspetta! Facciamo così! Andiamoci di qua! Da questa parte! Andiamo così! Faccio ski! No! Dai! Basta! Basta fare! L'elite non ci riesco! Io ci posso fare! C'ho problemi! Perché sto cercando di salire nel ventilatore! Il ventilatore si dissociatamente! Fammi saltare! Non mi fare cadere! Aspetta! Andiamo di qua! Gravissimi! Nove punti puzzolenti! Siamo primi! Buono! Dai! Stiamo giocando bene! Altra squadra che deve cadere! Ah! Due ne sono cadute! Perfetto! Quindi siamo rimasti ora in tre squadre! Ma siete sposati o fidanzati? Fidanzati siamo Stefano! Con l'elite siamo fidanzati! Fidanzati quasi da dieci anni Stefano! Aspetta! Ma che fa? Sesso altro non è meglio invece di andare a aspettare! Io capisco la punta qua è pericolosa! Dai! Non mi fare impallare gioco! Non mi fare volare possibilmente! Guarda qua che dissocivole! Meno male! Meno male! Almeno pure quest'altro! Via! Dai! Dai! Vabbè! Ok! Vabbè! Mamma mia! Predator! Cioè proprio in punta siamo! Surprise motherfucker! Mamma mia! È volata gente! Speriamo che tornano! Se era uno dei nostri! Ti prego dimmi! No! È volato uno! No! Mannaggia! Che è caduto qua! Sì! Perché c'è Predator con me! Quindi è caduto qua! Adesso ti grabbo! Perché mamma mi vuole bene! Emotico un sorridente! No! No! Mi ha body bloccato! Che gli scoppiasse la casa! No! Niente! Predator! Per colpa di sto decerebrato abbiamo perso l'elite! Ci ha fatto il grab! Ecco! Vedi che fa! Vai Predatorino! Non so se riusciamo! Poi! Attento perché c'è quel... Il depensante! Attento che ce l'hai accanto il depensante! Bravo! 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 Vediamo se riesce a fare molti punti per la squadra! Che problema principale! È il fatto che... 12 punti l'elite! Mannaggia! Ne sono pochi! Vediamo se ce l'abbiamo fatta! Perché uno solo dovesse... No! Ma Predator che carri a tutti! Io non ci voglio pensare! Predator sei un genio del male! Predator ricordami di aumentare i croccantini settimanali! Lelite! Qua ci dobbiamo riuscire! Io sono un toxic qua col pallone! Lelite sono i blu che devi grappare! Mi raccoma! Dai 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 dai! Ok! Quelli già hanno preso il pallone! Andiamo pure là! E dai! Non mi pare! Perdere tempo! Aspetta! Loro sono da quella... C'è il pallone d'oro! Fine della tregua! C'è sui! C'è sui pallone d'oro! Ma andiamo di qua! Andiamo a fare il gollaccio della vita! Ragazzi aiutatemi che c'è il pallone d'oro! Aiutatevi! Dai! Aiutatemi ragazzi! No! Ragazzi aiutatemi vi prego! C'è il pallone d'oro! Fallo volare! Via! Deve perdere sto toxic del Kaiser! Dai! No ragazzi il pallone d'oro no! Ragazzi non voglio prendere! Annaggia se stiamo a clappare in quattro per pigliare il pallone! Dai dai che li tengo fermi! L'elite sono i blu che devi grappare! Mi raccoma! Dai dai dai! Dai che teniamo lì fermi ragazzi! Sììì! Dai dai dai! Andate! Annaggia miseria però ragazzi dobbiamo anche difendere da quella parte! Allora andiamo di qua! C'è il signor Fuego! Fuego de Casinos! Vieni qua! Toglite il pallone! Dammi sto pallone! Veloce! Dai dai dai! dobbiamo andare a segnare dai dai avanti 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 ok aspetta dimmi dimmi che riusciamo ci siamo riusciti ok bellissimo l'ultimo canestro allora bravo predator bravo quando è bravo e bravo a lilittina ci siamo portati ma che la tattica è talmente semplice tranquillo bravo god grazie per l'iscrizione grazie per il supporto benvenuto nella community di chi ha perso la faccia